L'arte curiosa. Questa magari la sapevi già, o forse no, chissà. Piccole pillole di curiosità che spero non sembrino supposte. Simboli e significati nascosti, interpretazioni e spiegazioni sull'opera. Quella cosa particolare sull'artista è magari sul fatto insolito legato a quella determinata opera d'arte. Ah, già che ci sei, iscriviti al mio canale, dai 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 dai, ti prego, ti prego, ti prego, grazie. Quarto Stato, un'opera che è diventata un simbolo. Quest'opera è dedicata ai lavoratori, quelli più poveri, quelli sfruttati da sempre, anche un po' di più nel periodo in cui è stata realizzata, alla fine del 1800. Ma attenzione, questo è un quadro immenso, quasi 3 metri per 5, ed è senza committente, ma è un soggetto fortemente voluto, pensato e progettato, pezzo per pezzo, dal pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo, che decide di ambientarlo nella piazza Malaspina a Volpedo, il paese dove viveva, in provincia di Alessandria. Questa che vediamo è l'opera finale, quarto Stato, appunto, unino ai lavoratori che marciano compatti, uscendo dalle tenebre dello sfondo e si incamminano determinati, ma sereni, verso l'osservatore. E no, l'osservatore non è certo il committente. All'epoca nessun ricco committente avrebbe mai pagato un artista per ottenere un'opera simile. Un'opera che è praticamente un invito alla protesta, per ottenere i propri diritti, diritti che all'epoca erano negati. Basti pensare che una delle prime versioni si intitolava Ambasciatori della fame. Pellizza fa posare per lui i suoi concittadini e infatti in primo piano possiamo riconoscere tre figure simboliche della condizione lavorativa dell'epoca. A sinistra il falegname del paese, che forse con quella mano semi nascosta allude ad eventuali infortuni sul lavoro che in quel periodo ovviamente non erano risarciti e significavano la perdita stessa di ogni possibilità lavorativa, così come anche l'età avanzata, rimanda sicuramente alla pensione che però all'epoca non c'era. Alla destra invece della figura principale c'è una donna. Sappiamo per certo che come modella fu proprio la moglie dell'artista a posare con la loro bambina nata da poco e va a ricordare la condizione lavorativa femminile, la peggiore fra le peggiori. Pare fosse stata fra quelle fortunate, aveva partorito mentre non era al lavoro, così da potersi presentare la mattina successiva fresca, come una rosa, riposata, senza perdere il posto, cosa che invece capitava a molte donne. Al centro abbiamo detto c'è questa figura principale, una figura maschile, di fatto è a capo della massa di persone che lo segue ed è probabilmente il farmacista di Volpedo, che era un personaggio con cui Pellizza parlava parecchio e parlava di socialismo. Ed ecco quindi che va immediatamente spiegato questo suo modo particolare di tenere la giacca. È una postura scelta non certo a caso, ma ha per modello il Davide Michelangelo, che tiene il braccio in quella posizione, appena prima di tirare il sasso contro il gigante Golia. Davide, il ragazzino, Golia il gigante, ve lo ricordate no? Il ragazzino che riuscì a sconfiggere il gigante. Secondo voi qui, il gigante da sconfiggere, chi sarà? Nella versione appena precedente, lasciata incompiuta di quarto stato, le cose forse si fanno ancora più chiare. L'opera è incompleta, Pellizza non era soddisfatto della tecnica che stava usando, decisamente divisionista, e oltretutto aveva ricevuto delle pressioni esterne, perché questo quadro era considerato molto pericoloso, soprattutto per quello sfondo che non era nero, ma si potevano riconoscere ai lati due strutture, una forse una cascina agricola, l'altra una fabbrica, chissà, insomma, l'area generale era troppo minacciosa. Questo suonava davvero molto come un invito ai lavoratori sfruttati, unitevi e marciate contro l'oppressore. Quarto stato è più tranquillo, o almeno lo è apparentemente. Il popolo ha capito che unito può marciare, perché la sua forza è proprio questa unione, che comunque lo rende un fiume in piena, una fiamana, pronta a travolgere tutto. Ovviamente quest'opera non ebbe grande fortuna a livello di critica o di pubblico, venne rifiutata anche da parecchie esposizioni pubbliche. Pare anche che Pellizza si suicidò proprio a causa di questi mancati riconoscimenti per un'impresa artistica che lui aveva fortemente voluto che l'aveva tenuto, fra l'altro, impegnato per anni. Pensare che ancora oggi, una volta l'anno, i discendenti dei cittadini di Volpedo, quelli che avevano posato per Pellizza, si mettono in posa, come avevano fatto i loro parenti, per questo quadro che è diventato un simbolo. Ultima curiosità, l'opera finita, quindi quarto stato, attualmente è esposta all'entrata, prima delle casse, al Museo del Novecento a Milano, ed è lì per una ragione ben precisa. Chiunque volesse andare a vederlo lo potrebbe fare liberamente, perché quel quadro è anche nostro. È infatti stato comprato dal Comune di Milano nel 1920 attraverso una sottoscrizione pubblica di tutti i cittadini. Se avete avuto qualche parente in città in quel periodo, molto probabilmente un pezzettino è anche vostro, perché, mi raccontava la nonna, all'epoca davvero tante, tantissime persone comuni, avevano dato un soldino per poter far parte di un'opera che è entrata nella storia dei diritti dei lavoratori, proprio rappresentando uno sciopero in un momento storico in cui era legalmente vietato.